Ragazzi, altra possibilità molto semplice per ottenere 50 USDT praticamente gratis su BitGet piattaforma che io utilizzo per fare copy trading sulle cripto se non avete mai visto un mio video non sapete che ho fatto un'intera serie sul copy trading iscrivetevi al canale, guardatevi in descrizione, trovate i tutorial anche sulle questioni tecniche come aprire un account, come spostare gli USDT, come prendere gli USDT, acquistarli direttamente da BitGet si può fare con carta di credito bonifico oppure li comprate da un altro exchange, ve li mandate ho fatto tutti i tutorial, li trovate in descrizione, in descrizione trovate anche il mio link 10% di sconto sulle fee se vi registrate, il che non è male perché se fate copy trading considerate che c'è da dare anche il 10% al trader più le fee se tu hai uno sconto abbatti i costi prima e lucri di più, quindi 10% di sconto sulle fee con il mio link in più ci sono 8 BGB gratis, che è il token di BitGet BGB che è sottostimato secondo me quindi averne 8 gratuitamente vi metto qui il video come fare ma è molto semplice dovete semplicemente iscrivervi e fare un'operazione che superi 1000 dollari di volume che basta mettere 10 dollari e fare leva a 100 e avete fatto comunque vi lascio il video, in descrizione c'è il mio link ieri abbiamo visto come guadagnare 66 USDT veri, vi metto anche quel video oggi altri 50 USDT, c'è la settimana del copy trading su BitGet ed è semplicissimo vi registrate con il mio link se non siete iscritti e poi se siete iscritti già vi basta andare su questo link che ve lo metto nella descrizione perché la promozione va dal 5 giugno al 19 giugno, bisogna cliccare su partecipa ok, in realtà bisogna cliccare su questo qui, su questo pulsante ok, io l'ho già cliccato quindi sono già attivo e una volta che avete cliccato questo, quindi vi lascio questo link dove avete tutte le, perché ci sono anche altre promozioni se ve lo volete leggere poi cliccate su partecipa e cliccate su questo pulsante qui a voi sembrerà verde, dopodiché vi sarete iscritti dopodiché vi basta fare copy trading, vi basta che il trader scegliete un trader d'elite, ok, top trader e praticamente i primi 100 che faranno registrati e effettueranno 5 ordini di copy trading, ok l'importo pari o superiore a 10 USDT, ok, 10 dollari quindi per chi mi segue lo sa, sulle operazioni comunque sono di margine il minimo è 10, quindi bastano 5 operazioni, ok, qualsiasi margine avete il minimo è 10, quindi bastano 5 operazioni e avete 50 USDT in premio ragazzi, non sono bonus ma sono 50 USDT quindi voi vi registrate con il mio link, poi andate su quest'altro link che vi metto sempre nella descrizione, cliccate su partecipa cliccate su questo pulsante qui che a voi comparirà verde dopodiché andate su copy trading, future copy trading e scegliete un trader, quando il trader avrà aperto 5 operazioni voi alla quinta operazione riceverete 50 USDT gratis che sono prelevabili, è un premio gratis, proprio perché è la settimana del copy trading qui avete tutta la lista dei trader, se volete vi lascio anche qui nelle schede la mia playlist, la serie facciamo copy trading insieme dove abbiamo imparato un sacco di cose insieme, c'è sia la prima che la seconda stagione se volete seguire dei trader italiani, in descrizione trovate anche il link per scaricare gratuitamente il PDF che vi ho preparato ho un PDF con dentro tutti i trader italiani, in modo che potete praticamente controllare la loro operatività e anche contattarli visto che appunto una delle strategie migliori per fare copy trading è conoscere il trader che copiamo, poterci parlare, farci spiegare da lui la strategia quindi se andate su copytrading.michelemaraglino.com comunque trovate il link in descrizione anche avete questo PDF dove ho raccolto tutti i trader italiani quindi vi basta mettere il nome e la mail e vi arriva gratis quando il trader vi fa 5 operazioni avete 50 USDT gratis mi sembrava un'altra ottima promozione da segnalarvi quindi trovate tutti i link in descrizione sia i miei tutorial anche se è la prima volta e anche se non siete iscritti a Bitget iscrivetevi con il mio link così avete il 10% di sconto sulle fee e altri 8 BGB gratis trovate il video però ve l'ho già spiegato come si fa e poi cliccate qui su questo link poi cliccate partecipa poi cliccate questo pulsante che a voi sarà verde e nel momento in cui poi andate a scegliere un trader andate su copy trading future copy trading scegliete un trader nel momento in cui praticamente il trader aprirà 5 operazioni indipendentemente da come andranno voi avrete 50 USDT quindi magari avete potete provare a investire 50 USDT impostare un margine 10 adesso vi faccio vedere molto semplice e praticamente non correte rischi se perdete vi vengono restituiti molto molto interessante in descrizione c'è il mio tutorial su Bitget anche su come settare il trader come copiare anche c'è il tutorial sul copy trading guardate in descrizione che ci sono tutti i link proviamo ad andare per esempio Rolls Royce ok come si segue si clicca su copy qui mettiamo margine 10 ok e basta ok se volete maggiori dettagli ovviamente guardatevi gli altri video però queste sono le crypto che lui utilizza maggiormente volendo possiamo modificare qui switch to advanced mettere soltanto Bitcoin ed Ethereum togliere queste altre due conferma impostiamo 10 USDT come margine quindi lui andrà ad aprire operazioni con 10 USDT che è il valore minimo per avere poi il bonus dopo 5 operazioni cliccate su anche qui mettiamo 10 cliccate su next c'è tutto il riepilogo e fate conferma dopodichè vediamo quante per esempio questo qui quante operazioni apre in un giorno ne aprirà più di 5 quindi voi potenzialmente abbiamo scelto Rolls Royce potenzialmente potreste già in un giorno lui apre 5 operazioni e aver ottenuto il bonus ok vediamo order questi sono quelli che ha fatto ieri 6 giugno 6 giugno 6 giugno 6 giugno 6 giugno 6 giugno come potete vedere 6 giugno 6 giugno sono molto di più e tra l'altro ha anche guadagnato quindi guadagnate anche con il copy trading e in più avete 50 USDT vediamo se ha trader aperti no è molto interessante Rolls Royce comunque bisogna guardare tutti i dati guardatevi i miei tutorial ho fatto un sacco di video sul copy trading guardatevi la mia serie facciamo copy trading insieme e vediamo andiamo un attimo a vedere giustamente i termini e le condizioni comunque nel link che vi ho messo in descrizione trovate tutto giusto per vedere quando arrivano i soldini i premi sono riservati agli utenti di determinate regiografiche ok in Italia c'è la registrazione è consentita solo ai conti principali gli utenti che partecipano a più promozioni do stesso tipo riceveranno i premi di una sola promozione non mi dice i soldi quando arrivano però vabbè di solito arrivano 7-8 giorni lavorativi dopo l'evento ok ragazzi trovate tutti i link in descrizione settimana del copy trading provate anche voi iscrivetevi con il mio link magari depositate 50 USDT scegliete un trader gli impostate 10 dollari di margine se va male comunque avete 50 USDT se va bene avete guadagnato e in più avete il bonus di 50 USDT che ripeto non è un bonus sono proprio 50 USDT che potete prelevare mi raccomando mi sembra un'ottima proporzione scade il 19 giugno la durata della promozione dal 5 giugno al 19 giugno tutti i link sono in descrizione noi ci vediamo ad un prossimo video ciao